mi chiamo silvia giovetti e sono laureata in erboristeria e naturopata da anni mi occupo della salute del benessere e oggi vi presenterò alcuni prodotti fitoterapici e omeopatici che rispondono in pieno ai seguenti requisiti che ritengo fondamentali per la nostra salute il primo non nuocere in quanto i loro componenti pur essendo molto efficaci non hanno attività nociva secondo prevenire e questo è fondamentale per scongiurare poi il rischio delle malattie terzo aiutare in modo naturale l'organismo a raggiungere lo stato di salute durante il decorso della malattia stessa quindi a tal proposito oggi ti voglio parlare di un'azienda la pharma x enterprise che produce una serie di fito preparati e medicinali omeopatici che rispondono in piena questi requisiti sono validi per affrontare efficacemente le varie patologie quindi cominciamo con il primo prodotto che ci è utile per giungere della stagione fredda quindi in questo momento è proprio interessante perché ci aiuta a mantenere attiva la salute del nostro apparato respiratorio il prodotto è biococin 200k questo prodotto è un prodotto omeopatico che in modo naturale secondo i canoni appunto della medicina omeopatica può essere molto utile al fine della prevenzione delle malattie e soprattutto dell'influenza si utilizza facendo sciogliere sotto la lingua o in bocca il contenuto di una capsula e si consiglia di assumere il contenuto due volte alla settimana per sostenere l'organismo durante tutto il periodo dell'inverno quindi da ottobre a marzo nel momento invece della dell'acuto della problema acuto si consiglia di intensificare l'assunzione del prodotto in modo da velocizzare poi il processo di guarigione questo prodotto non contiene sostanze nocive e può essere utilizzato tranquillamente da tutti per quanto riguarda il periodo di stato dell'influenza quindi la fase in cui i sintomi caratteristici compaiono quali febbre rinorrea irritante e starnuti con l'emissione di catarro nasale o sensazione di dolenzia ad esempio alle ossa naso chiuso eccetera vi presento un rimedio di sostegno un rimedio naturale per contrastare questi sintomi il rum ex plus gocce è un prodotto omeopatico che in modo naturale secondo i canoni della medicina omeopatica può essere molto utile per contrastare i fastidiosi sintomi influenzali e favorire appunto la guarigione nella fase acuta si consiglia di assumere 10 gocce diluite in un cucchiaino di acqua più volte al giorno e anche ogni ora se dovesse essere necessario prima di deglutire il prodotto si consiglia di tenere in bocca le gocce per circa una decina di secondi un altro prodotto interessante che possiamo utilizzare nel caso in cui il freddo è causa di infiammazione della mucosa orofaringea con quindi la sensazione di bruciore arrossamento della faringe arrossamento delle tonsille e anche dolore alla deglutizione o febbre ritengo che ci sia un prodotto molto interessante che è omeotherm in capsule in questo caso abbiamo un prodotto omeopatico che anche esso secondo i canoni della medicina omeopatica risulta utile proprio per contrastare i sintomi dell'infiammazione alla mucosa orofaringea omeoterme in capsule si utilizza facendo sciogliere sotto la lingua in bocca il contenuto di una capsula più volte al giorno e anche ogni ora se dovesse essere necessario in caso di naso chiuso e rinite con rinorea cosa o appunto con il naso secco o rinite influenzale o anche allergica e vi presento uno spray nasale che si chiama nasal molto utile appunto per tutte le situazioni infiammatorie legate al problema appunto del naso chiuso ma anche legato alla fase allergica ad esempio la rinite da pollinosi nasale è un valido prodotto naturale molto utile per contrastare efficacemente la sensazione di naso chiuso sia che essa sia causata appunto da rinite influenzale che da rinite allergica questo spray è un prodotto naturale che non contiene principi attivi nocivi e non è irritante quindi anche per i nostri turbinati è sicuramente un prodotto tranquillo per ottenere risultati soddisfacenti sono sufficienti uno o due spruzzi per narice un paio di volte al giorno invece quando ci troviamo davanti a dei problemi legati ad esempio alle tonsille arrossate quindi con gonfiore dolore ad esempio dolore alla deglutizione arrossamento della faringe oppure anche laringite affonia vi consiglio uno spray orale molto valido che è il gola pur in questo caso lo spray orale ha delle erbe che sono favolose per il nostro benessere come il timo l'erisimo l'echinacea la drosera e anche la propoli in questo senso questo spray si spruzza direttamente appunto nel cavo orale ed è un'ottima formulazione utile per favorire il benessere della mucosa orofaringea e anche delle prime vie aeree per ottenere risultati apprezzabili è sufficiente spruzzare un paio di volte al giorno in gola ripetutamente questo spray per tre quattro volte al giorno in caso sia presente infiammazione dei bronchi con tosse sia secca che catarrale un valido aiuto per contrastare efficacemente la tosse rappresentato dallo sciroppo tussi sed è uno sciroppo naturale a base di estratti di piante molto efficace appunto per combattere la tosse e sedare la tosse sia appunto quando si presenta secca che quando si presenta catarrale è composto da timo balsamo del tolù castagna vesca drosera e grindeglia si consiglia di assumere un cucchiaio di sciroppo tre quattro volte al giorno o anche più volte e in conclusione via ho presentato questa carrellata di prodotti che ritengo importantissimi per il nostro benessere durante la stagione invernale ma spero di esservi stata utile ma vi voglio poi presentare altri prodotti che fanno parte appunto del bagaglio della della farm ex enterprise quindi tratteremo argomenti come ad esempio la menopausa la stanchezza l'insonnia disturbi dell'umore depurazione drenaggio e anche metabolismo e peso forma quindi seguitici nei prossimi video che vi presenteremo questi prodotti interessanti grazie e a presto